Il Codaconza si appresta anche a predisporre un mega ricorso collettivo pertanto presso il Tar del Lazio onde conflittuare e contestare la legge della Lorenzine che presenta notevoli buchi normativi e crea notevole confusione al cittadino. E' ancora una volta il Codaconza battersi in tema di vaccini. C'è infatti un vuoto normativo secondo il coordinamento ancora da colmare solamente a pochi giorni di distanza dall'inizio del nuovo anno scolastico, il primo dall'entrata in vigore della legge Lorenzine che prevede l'obbligatorietà vaccinale per l'iscrizione scolastica. È per questo motivo che il Codaconza è pronto ad avviare un maxi ricorso messo a punto dallo staff legale. Chi vorrà aderire potrà scaricare online la modulistica. Il primo ricorso partirà entro il 30 settembre. Dopo tale data il termine per ricorrere è fissato al 14 novembre. Codaconza pone a disposizione dei propri cittadini in generale un modulo da scaricare nel sito apposito con il quale si può chiedere di non sottoporsi ai vaccini se non previo aver fatto una preventiva pre-vaccinazione. Questo ha lo scopo di garantire ai bambini la salute perché non tutti possono essere idonei a fare questi vaccini. Pertanto il modulo serve proprio per evitare danni alla salute del minore. C'è un caos normativo perché la sanzione prevista, come sappiamo, è fino a 500 euro e quello non è un problema particolarmente gravoso ma la non iscrizione all'anno scolastico. Pertanto il cittadino che in realtà fa l'istanza in cui chiede di non fare il vaccino in attesa del pre-vaccino si trova in una situazione di caos. Essendo del resto una normativa del tutto nuova non c'è una casistica precedente. Pertanto siamo in attesa di capire come si muoverà la USL e comunque chiaramente in questo caso lo Stato di fronte a quei cittadini che non vorranno fare comunque il vaccino senza una pre-vaccinazione. Intanto per quanto riguarda la regione toscana è stato siglato un accordo tra aziende sanitarie comuni e ufficio scolastico che prevede che se non le scuole trasmettere gli elenchi degli iscritti alle ASL che verificheranno la situazione vaccinale di ogni bambino e si attiveranno con i familiari per l'eventuale regolarizzazione. Grazie a tutti.